Metal Gear è una di quelle saghe che ha rivoluzionato il panorama videoludico. Dal suo debutto nel 1987, la creatura di Hideo Kojima ha attraversato diverse generazioni di home computer e console casalinghe, ma chi come me è cresciuto negli anni 90, probabilmente avrà sentito parlare per la prima volta dell'avventura di Solid Snake grazie a Metal Gear Solid. L'esordio nelle tre dimensioni della serie ebbe un impatto fortissimo sul grande pubblico e ridefinì in toto il concetto di action stealth in terza persona. Da lì fino alla sua forzata conclusione con il quinto capitolo, uscito nel 2015, abbiamo avuto degli esperimenti su console portatile, alcuni canonici, altri no. Ma sebbene molti ritengano la PSP la macchina da gioco che segnò l'esordio su piccolo schermo di Snake, beh oggi faremo un viaggio indietro nel tempo nel 2000 per rovistare nella libreria del Game Boy Color. È lì che vide la luce Ghost Bubble, capitolo semi-sconosciuto della serie Solid, che tentò di bissare sull'ammiraglia attascabile di Nintendo il successo del suo fratellone su CD. Prima di scoprire qualcosa in più su questo demake abbastanza improbabile, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Ghost Bubble, conosciuto semplicemente come Metal Gear Solid in Nord America, nacque palesemente come tentativo di sfruttare l'ondata di popolarità nel capitolo uscito qualche anno prima su PlayStation 1. Commissionato dalla divisione europea di Konami, il gioco vide Hideo Kojima ricoprire il ruolo di produttore, mentre l'arduo compito di Game Director fu affidato a Shinta Nojiri per la prima volta al lavoro su Metal Gear. Questo nome è fondamentale per inquadrare la portata dell'operazione, perché proprio come accade in seguito per gli altri due capitoli diretti da Lungira, ovvero i Metal Gear Resid, anche Ghost Bubble è un episodio non canonico, che pur rimanendo fedele all'impostazione generale della narrativa, devia parecchio dalla storia ufficiale. La trama prende il via in una timeline alternativa, sette anni dopo gli eventi del primo Metal Gear. Snake è richiamato dal suo isolamento in Alaska per fermare una nuova minaccia terrorista, il gruppo GLF, Gindra Liberation Front. I guerriglieri della regione africana del Gindra hanno rubato un prototipo del Metal Gear, dal nome in codice Gander, per porre fine alla guerra civile. Snake dovrà infiltrarsi nel loro quartier generale Golad, costruito proprio sopra le ceneri di Outer Haven. Durante la missione entrerà in contatto con il sergente Christine Jenner, l'unico membro sopravvissuto della Delta Force, il team precedentemente inviato per eliminare la minaccia terrorista. La GLF ha infatti il supporto dei quattro membri sopravvissuti della Black Chamber, una task force che ricorda molto da vicino la ben più nota Fox Sound. Come potete intuire, Ghostbubble, tanto nelle premesse quanto nello sviluppo, prova in tutti i modi di replicare la complessità di Metal Gear Solid, anche in fatto di trama. Non mancheranno le interminabili conversazioni al codec e le lunghe sessioni di intermezzo dal sapore cinematografico, dove il giocatore diventerà un semplice spettatore. Tutto ovviamente è limitato dalle capacità del Game Boy Color, e la staticità dei dialoghi non è di certo aiutata dalla totale mancanza di doppiaggio sostituito da dei suoni non proprio piacevoli. Ma l'intento è chiaro, e come andremo a vedere in tutto e per tutto, Ghostbubble è il tentativo di ricreare fedelmente l'esperienza vista su PlayStation 1, facendo i conti con delle limitazioni hardware considerevoli. E il risultato è più che impressionante. Prima di proseguire però una precisazione. Sebbene la mia cartuccia sia in versione europea e quindi totalmente tradotta in svariate lingue, tra cui anche l'italiano, le immagini che vi mostrerò da emulazione saranno in inglese, più per comodità che per altro. Insomma, riprendere lo schermo del Game Boy Color non rende proprio al massimo. In ogni caso, la traduzione, proprio come accadde su console Sony, denota una buona volontà di non tagliare fuori ampie fette di pubblico, ma purtroppo è un lavoro portato avanti in modo sommario e grossolano. Dalla frase sul retro della confezione, con tanto di errore grammaticale e doppio punto esclamativo «Evidentemente noi italiani eravamo i più entusiasti di tutti» a una miriade di termini desueti o semplicemente inappropriati durante le conversazioni, il risultato finale purtroppo sfiora a malapena la sufficienza. Detto questo, come si presenta il gioco? Togliamo da subito ogni dubbio, perché il solid nel titolo non indica assolutamente un impianto di gioco in tre dimensioni, anzi tutt'altro. L'engine è una rielaborazione del secondo capitolo uscito esclusivamente in Giappone su MSX2, ovvero Metal Gear Solid Snake da non confondere con il mediocre Metal Gear 2, Snake's Revenge, titolo che non vide coinvolto in nessun modo Kojima. L'impostazione quindi è quella di un gioco in due dimensioni con visuali dall'alto diviso in quadri per lo più statici. Il gioco ovviamente ha un'impostazione stealth, dove al giocatore viene richiesto di avanzare all'interno dei quadri cercando di essere scoperto almeno possibile. Di novità però ce ne sono parecchie e sono state riprese a pie pari da Metal Gear Solid. Ad esempio abbiamo la possibilità di appiattirci contro i muri e muoverci per attraversare i passaggi stretti, bussare sulle superfici per attirare l'attenzione dei nemici e poi c'è anche Meling per salvare il gioco. Ritorna anche gran parte dell'arsenale e gli utilizzi creativi visti su PlayStation, che ricalcano pedissequamente alcune sequenze riportate sulle due dimensioni. La mappa in alto a destra fornisce un'utile visualizzazione istantanea del livello, però non ci saranno iconi di visuale di nemici e telecamere. Lo stato di allarme ripercorre le stesse fasi viste in precedenza, quindi allerta, cautela e normalità, e queste continueranno nonostante il cambio di schermata, anche se ingannare l'intelligenza artificiale è abbastanza semplice. Purtroppo la limitatezza dell'hardware si vede a partire dai pochi tasti a disposizione. La gestione dell'inventario, sebbene nelle out richiami meno rapidi di Metal Gear Solid, purtroppo è un vero incubo da imparare. Nonostante questo ci sono anche parecchie novità viste per la prima volta in un Metal Gear in due dimensioni. I personaggi possono spostarsi anche in diagonale, passando da 4 a 8 direzioni totali, molte schermate presentano una telecamera non statica e l'intero gioco è diviso in missioni, ben 13. Alla fine di ognuna riceveremo una valutazione basata su alcune statistiche, come tempo di completamento, oggetti usati e volte in cui si è stati scoperti, con la possibilità di selezionare ogni livello completato dal menu principale, per migliorare la propria valutazione. Insomma, a parte alcune piccole sbavature, l'impianto ludico è tremendamente solido e tanto le fasi di infiltrazione quanto le boss fight sono un piacere da giocare. Questo anche grazie a un comparto tecnico che ha del miracoloso. Insomma, non dobbiamo dimenticarci che stiamo parlando del Game Boy Color, una console a 8 bit. E nonostante questo, la palette cromatica è accesa e sgargiante, gli sprite fluidi e ben animati e le scene di intermezzo, seppur nella loro semi-staticità, riescono a trasmettere quel feeling cinematografico tipico di Metal Gear. Anche le musiche riarrangiano in chiave midi gli indimenticabili temi di Metal Gear Solid, e non fosse per qualche effetto sonoro eccessivamente sgradevole, anche il comparto audio rasenta la perfezione. A completare il tutto poi una campagna dalla durata compresa tra le 6 e le 10 ore di gioco, con una buona rigiocabilità se si decide di perfezionare i propri punteggi. E poi, seguendo per l'ennesima volta le orme del fratello maggiore, anche Ghostbubble presenta un'ampia selezione di missioni VR, divise tra infiltrazione, combattimento e avanzate, per un totale di 180 sfide da affrontare in modalità pratica o time attack. E per i più inaccontentabili c'è anche una modalità multigiocatore competitiva tramite Link Cable. Buona fortuna però a trovare un amico con un secondo Game Boy e un'altra copia di Ghostbubble, che come potrete immaginare non è proprio facile da reperire. Il gioco ebbe un ottimo riscontro di critica, ma all'interno della saga è uno degli episodi meno conosciuti. Penso che questo sia dettato da molteplici fattori che giocarono a suo sfavore. Innanzitutto Ghostbubble uscì verso la fine del ciclo vitale della console, quando tutti gli occhi erano già puntati sul Game Boy Advance, che sarebbe uscito da lì a poco, a inizio 2001. E poi un'operazione del genere sulla carta non ispira troppa fiducia, e averlo chiamato semplicemente Metal Gear Solid in Nord America probabilmente ha aumentato la diffidenza del pubblico verso una conversione sulla carta impossibile. E poi, storicamente porting del genere, pensati per sfruttare grandi nomi di richiamo, si sono rivelati essere dei demake così limitati da condividere solo il titolo con l'esperienza originale. E quindi da evitare. Invece, con Ghostbubble abbiamo un gioco degno di rivendicare la sua autonomia, divertente e longevo, forse tra i migliori risultati tecnici su Game Boy, un episodio non canonico ma non per questo che merita di essere dimenticato. Anzi, sono dell'idea che dovrebbe avere molta più attenzione da parte dei fan. E spero che un giorno questa hidden gem venga riscoperta dal grande pubblico. Poracci, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se conoscevate Ghostbubble e se vorreste altri approfondimenti del genere, su videogiochi oscuri, dimenticati, ma tremendamente interessanti. Io sono il Poro Michele, non canonico, ciao! Grazie a tutti!